Allora, cosa abbiamo fatto? Aspetta, mi sono perso Abbiamo tirato il ponte Che appunto Eh sì, vabbè, no ma prego Cacchio, tra l'altro Oh mio dio Aiuto Sti maledetti Cacchio, non lo sapevo Se carico il raggio luce Mi consuma cinque cariche Non una Mi consuma cinque cariche Ecco perché andava via così velocemente Maledetto Dove sono andati? Dove sono sti schifosi? Bagarozzi Dove sono? Ma sono invisibili No, ma dai, ma mi consumano tutto il bianco Non posso Non posso buttarlo per loro Uh Ok Posso scansionarli? Sì Forse Oh Guarda qua che si è aperto Ottimo Gnam Questa la volevo In realtà neanche tanto Mi serve l'espansione per quegli altri A me Preferirei E Allora Di qua Cos'altro possiamo fare? Forse Potevamo andare al rosso Però adesso Mi preme Ma stiamo tornando all'inizio No A me adesso Preme Tornare là dietro Non mi interessa Andare avanti di qua Cioè In realtà mi interessa anche andare avanti di là Però Però c'è tempo Allora Andiamo un attimo là Tanto ormai qua abbiamo sbloccato Quindi Non ci interessa Finché ci abbiamo il I missili bianchi almeno Da poter usare Aia Che poi Non lo so cosa c'è stasera Laga Laga il gioco normalmente E lagga A voi Opa là Easy Aia Sì quelle robe non le sto negando Ah Buono Va bene A me lo mi ricarico Non so poi come funziona Riavviando Riavviando la live Però si perde Che si perde è sicuro Il fatto è quanto si perde Allora Vabbè anche il blu l'abbiamo preso Il nero lì sotto Ora ci rimane Tornare là E vedere quel rosso e il nero Perché di là si va avanti Sicuro No Vi devo andare al bianco Vabbè prego Fate Come se fosse a casa vostra Tanto è a casa vostra In realtà Ci avete ragione anche voi Oh no Sono tornati Sono tornati i cinghialotti Che cos'è che avevate detto Agumon Esatto Esatto È quello lì Dei Digimon Infatti Sì sì ma sono loro Sono palesemente loro Ah il rosso Sta di là Di là dove Là dietro Là c'è Ok Là c'è l'oscurità Che avevamo fatto Il rosso Sta là dietro No Sono sopra Vabbè in ogni caso Non possiamo farlo Non possiamo farci niente Niente a posto Andiamo avanti Che problema c'è Che problema C'è A parte quello che mi son perso È qua È qua Sporb Pianta carnivoro occulta Lancia agli velenosi in battaglia Afferra oggetti piccoli dimensioni Con le mascelle Ma chi se ne frega Sporg No Sprecare i cosi No 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 non posso neanche uccidere Che ci faccio qua io Nada Oh 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 Ti piacerebbe Ti piacerebbe Ciao con noi Che schifo Che schifo Maledetto Sporg Oh Oh A Sporb Un nemico Dei Power Rangers Sporg È il rampino Rampino Non ce l'abbiamo Non è il rampino Poi il rampino è quello di Di cosa Dovado Scendo L'unica Salve Ciao ragazzi Sono nuovo Ah ok Non pensavo di essere arrivato in una zona Che avevano già fatto Questo cosa mi cambia? Il lancio della palla Ok Va bene Lo accetto Mi piace il lancio della palla Oh Madonna Scusa 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 Perché il verde è quello Non possiamo ancora causarlo Spam Sporb Qualcosa per Sporb Ehi Cacchi di pipistrelli infami Ah No aspetta Dove sono finito? Dove cacchi sono finito? No ok Sono di là Va bene Dove volevo andare praticamente Quello c'è il teletrasporto Verde Il traduttore verde Lì che non possiamo farci niente Posso? Chiaro Bastava dirlo Stava che mi dicevate Ah si stai andando avanti Grazie Ti voglio bene Oh mio dio Che fighi Quanto fighi Con la motocicletta sono arrivati Hanno parcheggiato lì davanti Questo è come quando i boys Arrivano con Arrivano con la Bugatti Davanti alla discoteca E parcheggiano lì Proprio Si parcheggiano lì davanti Li dà le chiavi Al tizio Parcheggiamela bene Trattamela bene Sì va bene Queste cose sono immirabili Wii Bellissimi Ma ecco fido Sono arrivati Sono arrivati I rinforzi Dai cacchio Questi qua non c'hanno neanche la barca Ma quanti sono? Nice mira E morite Ma che cacchio Stop Sì Questo è grosso Questo è un pezzo grosso Super missile Please Mi va benissimo anche il super missile Questo è un super missile Super missile Si trasforma in un super missile Ok mi ricordo come funziona questa Almeno Però qua non possiamo farci niente Noi giusto? Non abbiamo la Non siamo studiati Non siamo studiati Per quelle Buono però Super missile Ma aspetta Cosa ci apro io con i super missile? Le porte verdi? Ti prego dimmi le porte verdi In realtà dimmi di no Però perché Sennò devo aprirle tutte Maledizione Maledizione No aspetta Perché sono caduto giù? Voi lo volo con la porta verde qua Ma non c'è Ma Ma Scendi un attimo per favore Grazie C'è una porta verde qui raga Ah no ma è sotto Sotto? 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 È sotto? Ok E come ci arrivo sotto? C'è un ingresso segreto? Sicuro? Sicuro c'è un ingresso? Ah lì guardalo guardalo Ho capito? Ok capito Ci arriveremo? Forse sì Forse possiamo farlo anche adesso Aspetta un attimo Stavo scherzando Post Andiamo avanti Dove eravamo rimasti Faremo tanto dai Basta vedere dove non si è andati Po combatte contro dei nemici verdi Che Po? Po è quello di Guarda lì sotto c'è anche quell'altro pezzo Vabbè Po è quello di Kung Fu Panda Che c'entra Kung Fu Panda Questo l'ho già visto Fare un boss Alive Quanti boss ci sono? No stavo scherzando Non voglio Non voglio saperlo Mi va bene sapere un boss Alive Così non so quanti sono Che succede? Amico Che ti è successo? Chi sei tu più che altro? L'uomo è deceduto 1.2 Deci Deci Fasi Deci cicli Quello Segni diversi tentativi da parte degli Inc Di possederlo Possederlo Tutti andati a vuoto Resistere l'attacco come questo Significa essere dotati Forse volontari Esistenza psichica notevoli Nella Kazam Praticamente Aspetta questo Ma questo è il robot Dei nemici? Posso rubargli l'energia? In teoria No? Non sono quei cosi Dove posso rubargli l'energia? Mico Mico Non sono quei collettori? Scusa La collegamento Tutta l'energia del modulo Era convolta Nel sistema locale Cosa che non mi torna Questo forse Olografico Oh ok Oh no Aspetta Forse prima dobbiamo andare A prendere quella del mondo scuro Dobbiamo toglierla dal mondo scuro E metterla qua Questo è verde Mi da Oh 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 Mi da roba verde Ce l'abbiamo Il traduttore verde Una grande guerriera Viene in visita al tempo Cacchio ma pure lui lo sa Che è femmina Samus Solo io mi scordo Che è femmina Viene in visita al tempio di Torvus Ti auguro di riuscire Dove io ho fallito Quello vai tranquillo Avok Ultima sentinale di questo tempio Presto estrema attenzione alle mie parole Sì Come puoi vedere Questo tempio è stato deturpato Dall'impeto della guerra Dalla sala principale è rimasta quasi intatta Il resto dell'edificio è allagato Ho notato Piove pure Devi usare le tue capacità Per avventurarti in queste terre allagate Ok Per accedere al tempio scuro Le chiavi Anche qua ci sono tre chiavi Quindi praticamente ci sono tre templi Tre chiavi per ogni templio E i big boss per i templi Le acque dietro le scure Sono pure verenose Impure e verenose Se puoi evitale Le ho prese tutte Le ho prese tutte Di quello che è successo Della line Ho aggiornato anche il modulo Traduttore Sì Colore smeraldo Ti voglio bene Ling non ti darà un trego Vabbè no è tranquillo Ti ringrazio per il traduttore Ci manca un Non so per dire un google traduttore Ci manca un altro traduttore Un altro colore Perché potrebbe essere un colore Che poi ci danno Nel terzo In teoria Nel terzo dungeon Ci danno un altro traduttore Eccolo lì Adesso possiamo farli questi Va bene Sappi che comunque ti voglio bene Anche se sei un ologramma Morto probabilmente Probabilmente è quello lì morto Per terra Avoc Avoc è napoletano Avoc Lui sa che è femmina Perché ha guardato troppo Ma cacchio ma c'è un'armatura Tutto corazzato Tutto corazzato Dove sono finito qua sopra Ah beh ok giusto Mic mic Forse non dovevo farlo così Cacchio raga Adesso è un casino Aspetta ma posso andare sotto Sotto Sì Nice Adesso è un casino raga Cioè noi possiamo aprire tutte le porte verdi E possiamo aprire tutti i traduttori verdi Adesso è un bordello Ridovere esplorare le cose Per trovare Ci manca il viola là Il viola è l'unico È il nostro nemico adesso È l'unico che non possiamo No 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 Appena arrivato Stavo esplorando con calma Portami giù Riportami giù Quali sono quelle schifezze? Non lo voglio sapere Non lo voglio sapere Allora adesso stiamo giù raga E come prima cosa Vado di là Dove prima non mi avete voluto mandare Esatto Di là Prima c'è qualcosa Eh appunto raga adesso c'è C'è tutto da aprire Tutte le zone verdi Che non avevamo visto prima Quelle che abbiamo visto prima Più Tutte Le traduzioni verdi Adesso possiamo fare tutto E si aprono un sacco di passaggi Google traduttore Sì No raga vedo un puntino giallo Laggiù I puntini gialli mi ricordano Brutte cose Su Metroid Prime 1 Sono delle Sono dei livelli collegati Cos'è Cos'è sta roba Cos'è Cos'è No No please No please No please C'è bordello C'è bordello No No Maz No 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 Cos'è Fec Vabbè Quelli mi distruggono Allora dove siamo Io posso andare più sotto Non l'ho controllato Nanzitutto posso andare più sopra In teoria No Sì Vorrei andare là Grazie Ah Bene Lo accetto Allora io vorrei andare Se riusciamo Al boss Se riusciamo Posso andare giù Eh sì Eh sì Eh sì Però è un casino Mi sa che Oh cacchio Mi sa Sapete cosa Che non posso Non posso farci ancora nulla Perché Questa che era La tutta gravità Mi pare Era la tutta gravità Nel Nell'uno No raga Quelli mi ammazza Questo mi riporta su Invece Ok Proviamo ad andare giù In fondo Fino al blu All'azzurrino Se non sbaglio Era la tutta gravità Nell'uno Che mi Mi aiutava Mi aiutava C'è un cacchio A saltare sott'acqua Dov'è l'azzurro? Ah qua Qua? Qua dove? Mi prende in giro Dov'è? Non c'è la porta azzurra Non c'è una porta azzurra Qua No Non possiamo farci niente Come l'ho detto Boni No Non possiamo farci niente Qua raga Sono venuto in una zona Che probabilmente È troppo presto Ancora Quindi Via Fec Di là Di là dove? Ah beh Di là giù Ok Sì no È troppo È troppo avanzata Sta zona Meglio Non addentriamoci Non facciamo niente Tra l'altro ci mancano Anche le porte verdi No verdi Scusa Gialle Quindi abbiamo ancora Due potenziamenti Da dover prendere Porte gialle E porte E porte Viola Non saprei Se una è per Un altro potenziamento Potrebbe essere una Per un altro potenziamento E una per Per l'ultimo raggio Disponibile Che c'è Madonna Che paura Maledetto Io mi lancio i supervisi Shit State buono Madonna Completamente demolito Ehi Buono Mi fai passare Almeno Vabbè Puoi restare in vita Ma basta che mi fai passare Non scassare Ok Ho risparmiato Ovviamente Anche se meritava poco Però Io non ce l'ho voglia Di trovare da dire Vedete qua Manca il terzo E noi Allora A noi ci manca Il braccio rampino Ma dove cacchi sono finito io In tutto ciò Ci stiamo ricollegando Ci stiamo ricollegando Ragazzi Prendo il nero di lì Mi sa che ci ricollegiamo di là A me va benissimo A me andrebbe benissimo Non trovare altri percorsi Ma tornare indietro A me andrebbe benissimo Ci manca la palla È vero Ci manca anche quella Oh cacchio Ci manca anche La spinta con la palla Insomma Ci manca la gigabomba Ci mancano diverse cose Eh sarebbe ora Di trovarne qualcuna Che dici Perché questi sparano raggi gelati Ok One down Uh Questo è più intelligente Aspetta Questo è intelligente Raga No Sto forse Scherzando Pirata commando È normale Ah boh Hai conosciuto Metroid Tramite Smash Ehm Penso di sì Penso di sì Penso di sì Ok Andiamo avanti di là In realtà Credo quasi tutta Nintendo Tranne Mario Mario è l'unico Che penso che conoscevo già Ok Questo è come l'altro portale Forse anche Anche Link di Zelda Non lo conoscevo Più tutti gli altri ovviamente Tutti I friends C'è anche la pitch Per dire Io conoscevo Mario Vabbè Mario Era sul computer Mi ricordo E basta Pessima zona Pessima Però almeno posso salirci qua Non riesco a capire Se sono Che schifo Che schifo Questo è nuovo Ink cacciatore Che schifo No grazie Non compro nulla Guarda che schifo Oh ma lasciami stare Lasciami stare Vergognati Ti cacchi tu hai Vedi qui Mi riesco a capire Buono Se sono Se sono identiche Le cose Credo di no I due mondi Se il mondo scuro È identico A quello normale Credo di no Cioè hanno le stesse Le stesse Stanze Però sono Disposte in modo diverso Mario su computer Sì Era Una versione di Mario Bros Su computer Da dove vengo io? Da là Ok Grazie Io vengo da Là Quindi vado Di là Sì Sto andando giusto Poi Non lo so Io ho fatto una roba Tipo tutto automatico Va bene In caso fosse storto Torniamo indietro Tanto Questo è un percorso A metà Aia Oh Fa cof Schifoso Dove cacchi sono finito? Come ci sono finito? Ah Dalla porta Ok Quindi lì è chiuso Vado al bianco Dalla porta Sono passato Giustamente Munizioni Un po' ce l'abbiamo Non credo Che riusciremo A fare un boss Stasera O almeno Mi farebbe molto strano Trovare un boss Mi farebbe molto strano O in caso Magari un bossettino Un bossettino Magari Ce lo fanno fare Sei un bossettino? Che strana presentazione È un bossettino Sicuramente È un bossettino Un altro cadavere Sicuramente Quello è un bossettino Raga Trust me Speri che sia un bossettino Che è un bossettino Che è un bossettino